Restano in carcere Alfonso Tumbarello e Andrea Bonafede, rispettivamente il medico di Campobello di Mazzara che ha curato per due anni durante la latitanza il boss Matteo Messina Denaro e il cugino e omonimo del geometra che ha prestato l'identità al capo mafia. Il Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo le richieste del PM, Piero Padova e Gianluca De Leo e dell'Aggiunto Paolo Guido, ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali dei due indagati. Tumbarello è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Bonafede di favoreggiamento e procurata in osservanza della pena, aggravati dal metodo mafioso. Secondo il PM, Bonafede si sarebbe occupato di ritirare le prescrizioni di farmaci ed esami clinici fatte da Tamburello a nome del cugino, di consegnare al medico la documentazione sanitaria che di volta in volta il boss riceveva durante le cure, contribuendo così a mantenere segreta la reale identità del paziente e consentendogli di proseguire la latitanza. Tumbarello invece avrebbe assicurato a Matteo Messina Denaro l'accesso alle cure del Servizio Sanitario Nazionale attraverso un percorso terapeutico durato oltre due anni, con più di un centinaio di prescrizioni sanitarie e di analisi o richieste di ricovero intestate falsamente al geometra Andrea Bonafede, mentre in realtà a beneficiarne era il capo mafia assistito personalmente dal dottore. Tumbarello avrebbe così garantito al padrino non solo le prestazioni necessarie per le gravi patologie di cui soffriva, ma anche la riservatezza sulla sua reale identità. Il nome del medico era spuntato anche nella vicenda che coinvolse l'ex sindaco di Casselvetrano Antonio Vaccarino, condannato per traffico di droga e protagonista di un lungo carteggio con Messina Denaro. Vaccarino si era rivolto a Tumbarello per incontrare il fratello di Messina Denaro, Salvatore. L'incontro si svolse nello studio del dottore. I legali dei due indagati hanno sostenuto che i loro assistiti non erano a conoscenza della vera identità del paziente. Grazie a tutti.